Si aiuta, si deve aiutare anche il sud, questo mi sembra giusto, perché se non gli aiuti poi a casa loro poi fatalmente si trarippa qui, si trarippa l'allegolo qui, e quindi capiamo bene queste cose, è un po' come l'Africa, l'Africa è stata aiutata, ma ci arriva tutto addosso, quindi prevenire con scelte giuste e sagge, dove si vada bene bene anche noi e bene anche loro, questa è la via, le scelte da fare.